Oggi è la giornata mondiale della salute mentale. Proprio oggi una mia paziente mi diceva che da quando ha iniziato i trattamenti si sente più serena, si sente più sicura nelle decisioni che prende, può dare dei no più decisi e ha molto più lucidità mentale. Questo perché? Questo è l'effetto dei grammi. Che cos'è il grammi? Il grammi è sentirsi più piantati per terra, questo è quello che noi facciamo con tutti i pazienti. Dopo i trattamenti, ogni trattamento il paziente si sente più leggero e più piantato per terra. Questo permette al nostro cervello di funzionare meglio, di spendere meno energia nello stare nell'equilibrio e quindi non solo avere un migliore equilibrio fisico, ma anche avere un migliore equilibrio mentale e poter prendere tutte le decisioni della vita che la vita ci porta davanti. Se vuoi avere più informazioni su questo argomento, beh, questa settimana faremo una conferenza sul nervo vago altrimenti potete andare a vedere e consultare i nostri social o al nostro sito internet www.milanochiropratica.com E buona giornata della salute mentale a tutti. No stress!